Vecchi cuori bianconeri, vi avevo promesso nel pomeriggio un video a tema Milan e Napoli e scelte degli allenatori. Non è questo il video in questione, ve lo porto domani perché credo che in realtà sia prioritario, a differenza di quanto detto nel video di stamattina, parlare un po' di quella che è la percezione legata al mercato della Juve che sta un po' cambiando. Ho visto che è andato molto bene, il video che compra la Juve te lo dico io, grande classico di questi anni, però l'arrivo di Tiago Motta sta un pochettino rivoluzionando anche quelli che sono i discorsi legati alla campagna acquisti della Juve. Proprio in quel video io vi parlavo di un nome legato a un terzino, vi dicevo c'è la necessità della Juve di acquistare un terzino per quanto mi riguarda. Giuntoli potrebbe andare in direzione di Lorenzo che è un terzino in uscita dal Napoli, è stato il capitano del Napoli campione d'Italia di Giuntoli, quindi stiamo parlando sicuramente di un rapporto personale, lavorativo, professionale, chiamatelo come volete, di alto livello tra Giuntoli e di Lorenzo. È stato lo stesso Giuntoli a portare il giocatore al Napoli prendendolo dall'Empoli, è un giocatore che poi è diventato titolare, ha vinto l'Europeo con l'Italia, è un giocatore che negli ultimi anni ha raggiunto veramente degli alti risultati, è un giocatore affidabile, è un giocatore che non è nemmeno troppo vecchio ancora, è nel top della sua carriera ed è un giocatore che banalmente ha fatto capire di essere uscita. Potrebbe essere un acquisto interessante? Da un certo punto di vista sì, da un altro no. Tanto vi dico i no, perché mi piacerebbe anche un nome nuovo di quelli da svezzare, un nome di un giocatore fresco, interessante, di quelli che magari paghi anche meno, però poi ti danno la sorpresa, un po' come è stato cambiato l'anno scorso, di quelli che ti puoi formare in casa, perché Tiago Motta può mettere mano su dei giovani innesti. Sì invece, vabbè, il no legato magari anche al costo, che non ho idea di quale possa essere il prezzo richiesto da De Lovrentis per Di Lorenzo, sappiamo bene che quando c'è anche la volontà di un giocatore di andare via da Napoli, poi De Lovrentis si mette in mezzo, a maggior ragione se va ad andare alla Juve, può provare ad ostacolarlo, un po' come è stato l'anno scorso congiunto, lì liberato veramente all'ultimo momento utile, a luglio inoltrato, a differenza della Juve che invece Manna l'ha fatto andare a Napoli, tranquillamente con tutta la calma del mondo per iniziare a far programmare la stagione. I motivi che mi portano a dire sì sono appunto la qualità del giocatore, un giocatore importante, è un giocatore che è stato capitano, capitano, quindi anche dei valori all'interno di uno spogliatoio di un certo tipo, è un giocatore che potrebbe andare ad aggiungere un tasso italiano a questa squadra, perché mi sembra che la volontà della Juve sia quella di ricreare un gruppo italiano forte all'interno della Rosa. Non è un caso il nome di Calafiori, non è un caso il nome di Di Gregorio, non è un caso il rinnovo di Lugani, non è un caso il rinnovo di Cambiaso, non è un caso il fatto che Locatelli sia comunque identificato come un giocatore non in uscita per la Juve, così come Gatti che è un giocatore che rimarrà alla Juve. L'unico magari è Chiesa, su cui si stanno facendo alcuni ragionamenti economici, è venuto fuori anche la possibilità di un Chiesa che non rientra in quelle che sono le aspettative, le volontà comunque di Tiago Motta, le preferenze di Tiago Motta. Questa cosa mi sorprenderebbe abbastanza, devo essere onesto, perché non credo che Motta sputerebbe su Chiesa, anche se è un giocatore molto anarchico, perché Chiesa, per definizione, per quella che è la sua forza, ma forse anche il suo più grande limite, è un giocatore che è molto testardo. Però noi l'abbiamo visto perfettamente inserito in un contesto ordinato come quello di Pirlo, quando sapeva esattamente cosa fare, invece in questi anni di Allegribis è stato molto volte, secondo me, costretto a provare a spezzare il ritmo della partita con delle sgasate e delle azioni molto personali. Chiesa, io me lo ricordo come un giocatore che comunque a volte veniva etichettato come individualista, però io ho visto anche un Federico Chiesa a versione assistman e sono convinto che lo possa fare, tutto dipende dall'organizzazione che verrà data alla squadra, quindi sarei sorpreso, sono sincero, di un Chiesa che va via dalla Juve, è ovvio che se non rinnova quest'anno poi diventa difficile, perché scadenza 2025 per la Juve deve essere anche una tutela dal punto di vista economico, Chiesa che piace alla Roma, nelle ultime ore si è parlato di un interessamento anche del Napoli, perché piace anche ad Antonio Conte, ribadisco, sarei sorpreso di vedere un Chiesa via dalla Juventus perché non piace a Motta, meno sorpreso di un Chiesa via dalla Juventus perché, per ragioni economiche bisogna fare un'accessione di quel tipo dato che non si arriva al rinnovo, ma Chiesa ci ha fatto sapere dopo la finale Coppa Italia vinta che la sua volontà resta alla Juve, che si incontrerà con Giuntoli per definire il suo futuro e parlare anche di rinnovo, quindi aspettiamo e controlliamo quello che accadrà. Però la Juventus secondo me sta cercando di mettere in piedi una sorta di colonia italiana, un po' come all'Inter in questo momento, perché la nazionale che andrà agli europei quest'estate sarà molto a blocco nel razzurro, lo abbiamo visto, anche lo stesso Spalletti ha detto all'Inter che gioca con la difesa 3, quindi devo cercare di andare incontro anche a quella che è l'asse portante di questa squadra con giocatori di livello alto, quindi secondo me la volontà di Giuntoli è creare questo mini blocco italiano. L'altro nome che dobbiamo fare, ovviamente, oltre a quello di Calafiori che sembra un giocatore che Motta vuole portarsi dietro a Bologna, vedremo, perché secondo me un conto essenziali di Calafiori con Bremer, un conto essenziali di Calafiori per sostituire Bremer, perché Calafiori per me è fortissimo, però diventa un'operazione sensata e intelligente, se tieni Bremer per un anno, l'anno dopo lo devi via con la clausola e quest'anno ti fai quel tipo di difesa lì, quindi ipotizzando una difesa, una linea 4, con Di Gregorio in porta, perché poi arriveremo al tema portiere, Di Gregorio in porta, cambiaso a sinistra, Di Lorenzo a destra, Calafiori e Bremer come difensori. Avresti su 5 giocatori difensivi quei famosi 4 del blocco italiano che secondo me sta cercando di ricostruire Giuntoli e secondo me sarebbe anche una linea 4 molto interessante con Bremer che deve per forza di cose imparare a giocare in una linea 4, dato che anche col Brasile è destinato a giocare con quel sistema lì, quindi può farlo a margini di miglioramento, un giocatore forte secondo me può imparare anche quel tipo di approccio e non solo un approccio a 3. Di Gregorio, io l'ho visto l'altro giorno, non ha giocato contro di noi, ha giocato Sorrentino al suo posto, è stato premiato come miglior portiere della serie attuale, non sono esattamente d'accordo su questa cosa, però è sicuramente un giocatore, un portiere molto forte, per 20 milioni secondo me ha senso prenderlo, anche perché i prezzi di altri portieri come per esempio Carnesecchi, che a me piace tantissimo, mi piace anche più di Di Gregorio, però hanno dei prezzi veramente non umani, e si è visto, si è capito, anche lo stesso Palladino ci ha fatto capire che c'è questa trattativa, ma dovrebbe essere praticamente concluse, Juventus e Monza si sono incontrate proprio in occasione della partita, Di Gregorio è stato anche applaudito dai tifosi della Juventus nel momento dell'altore delle formazioni, e come Tiago Motta è un giocatore che ha un passato legato all'Inter, quindi è un giocatore che poteva non essere applaudito dai tifosi della Juve, se l'hanno fatto è perché si sa che ormai Di Gregorio sarà un portiere della Juventus, ma fino a qualche giorno fa immaginavamo di un Perin destinato a partire, perché vuole giocare titolare e quindi va in un'altra squadra, Di Gregorio che rimane sotto l'ala di Scesni, si alternano come era stato Buffon Scesni quando è arrivato il portiere polacchio, quando ci preparavamo a salutare Buffon. Ecco, nelle ultime ore invece questa cosa è cambiata, questa percezione è cambiata, perché la Juventus sarebbe forse, a quanto pare, quanto riportato dai maggiori intenditori di calcio mercato, lo stesso Alfredo Pedullà ci ha spiegato come la Juventus abbia fatto fuori Scesni in questo momento, magari sulla carta senza ancora comunicarlo al portiere stesso, perché la Juve ha la volontà di ridurre il monte in gaggi, lo sappiamo, questa è una volontà, è Scesni uno dei giocatori che ha il contratto più oneroso dentro la rosa della Juventus, e quindi la Juventus sta cercando di ridurre al minimo lo spazio salariale, abbiamo parlato di potenza di fuoco proprio nel video che compro io e te lo dico io, ma non mi sarei immaginato di un Scesni potenzialmente sul mercato o in partenza già in questa stagione, è un po' il discorso che vi faccio per Calafiori, cioè il fatto di prendere Di Gregorio che si alterna con Scesni e il fatto di avere Calafiori di fianco a Bremer è diverso da avere Calafiori che sostituisce Bremer o Di Gregorio che arriva a sostituire sia Scesni che Perin, intanto perché poi deve prendere un secondo portiere, perché io immagino che Perin andrà comunque via a prescindere, anche l'altro giorno mi ha dato l'impressione di un saluto finale quello di Perin, possiamo dire così, anche passato sotto la curva con la Coppa a festeggiare alla fine, ho percepito un po' la volontà di Perin di andare a giocare, di salutare la Juventus da titolare all'ultima giornata. Io capisco il discorso del Tiago Motta vuole giocare con i piedi, vuole il portiere che gioca con i piedi, per creare virtualmente un uomo in più, è una cosa giusta, è una cosa moderna, il calcio di oggi lo fanno un po' tutti, probabilmente sia Scesni che Perin non sono esattamente adatti a quel tipo di approccio, però la porta io credo che sia il ruolo più delicato di tutti, in assoluto, e Scesni per in Pinsoglio probabilmente è il gruppo portiere più qualitativo in Italia, più completo in Italia, io sono davvero convinto di quello che dico, cioè la Juventus aveva priorità in altre parti sui terzini, sui centrocampisti, secondo me non sulla porta, capisco la programmazione, è giusta, la Juventus deve programmare il 2025, però cedere sia Scesni che Perin per prendere Di Gregorio, ho paura che possa essere un passo un po' troppo più lungo della gamba, non perché ho dubbi su Di Gregorio, è un buon portiere, lo prenderei assolutamente, sono contento che possa essere lui il prossimo numero della Juve, però secondo me avrebbe bisogno, maggior ragione, in una stagione così lunga, in cui la Juve avrà cinque competizioni, Serie A, Super Coppa Italiana, Super Champions League, Mondiale per Club e Coppa Italia, competizione molto lunga, in cui la Juventus può arrivare a giocare 50-60 partite, una roba del genere, di avere anche la possibilità di dare a questi giocatori un intercambio di un certo livello, e quindi io capirei, sono perfettamente d'accordo con gli stagionisti di Gregorio, e cresce sotto l'anno di Scesni, sarei un po' più preoccupato su vanno via tutti e due, i primi portieri della Juve, che sono due portieri, primo e secondo portiere di assoluto livello, ripeto, per me è il migliore della Serie A, per Di Gregorio, ne vado a prendere un altro, oppure aggiungo da fare, che sta facendo benissimo, ecco la Next Gen, però capite che presentarsi con Scesni per in Pinsoglio, l'anno dopo con Di Gregorio da fare a Pinsoglio, secondo me cambia un pochettino la situazione, poi io sono dell'idea che i giocatori giovani, i portieri giovani debbano andare a giocare, per essere magari pronti un giorno a essere i primi, e non andare a fare i secondi nella Juventus, dove non giocano praticamente mai, quindi sarei anche contro a un ragionamento di questo tipo, ma questa è una roba tutta mia. Per la Juve la porta è una tematica, perché la scadenza del 1.025 di questi giocatori, obbliga a prendere in considerazione una programmazione futura, ma la programmazione del inserisco un portiere, che si alterna primo-secondo, che in realtà è più proiettato ad essere il primo, perché poi l'anno successivo sarà lui, mi sarebbe piaciuto un po' di più. Vediamo come si evolve questa situazione, la Juventus sta facendo anche questi ragionamenti, non solo per il lato economico, come abbiamo detto, perché è Scesni uno di quelli che guadagna di più, ma anche per il lato sportivo, quindi il tecnico tattico da parte di Tiago Motta, di avere un giocatore che possa muovere la palla con i piedi, perché è un punto fondamentale, questo nel tipo di approccio di Tiago Motta. Fatemi sapere un po' cosa ne pensate, qui sotto nei commenti, perché secondo me stiamo un po' troppo sottovalutando Bremer, perché perdere Bremer sarebbe un po' un problema, Chiesa perché perdere Chiesa sarebbe un po' un problema, e Scesni perché, ripeto, avere una composizione di portiere di un certo tipo di una cosa, diversamente un'altra. Non cerchiamo di far passare i nostri per scarsissimi, perché non lo sono, abbiamo dei giocatori di assoluto livello e credo che Scesni, Bremer e Chiesa siano tra i migliori giocatori della Juventus attuale. Poi è ovvio che se si dice, guarda, io devo monetizzare, devo cedere, devo è, quello è un altro tipo di discorso, però dal punto di vista sportivo, allora secondo me la competitività generale della Rosa poi va a perderne, perché io continuo a leggere che la Juve è una Rosa scarsa, ma, ripeto, per me ci sono dei giocatori di assoluto livello, e cederli così a cuor leggero e sostituirli anche con calciatori forti, perché sono giocatori forti, quelli di cui stiamo parlando, i vari di Gregorio, i vari Calafiori, eccetera, o quelli che potrebbero arrivare al posto di Chiesa, serve un attimino di concentrazione in più, perché secondo me poi la Juve va a perderci nella qualità generale della Rosa, quindi nelle rotazioni di una stagione molto molto lunga. Alla Juve serve anche aggiungere qualità, secondo me fuori dagli undici titolari. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti.